E' siccità, e non da oggi, un problema che la Sicilia affronta oramai da tempo e non è l'unica regione italiana in queste condizioni. Insieme alla scarsità di acqua ci sono le alluvioni, come quella dell'Emilia-Romagna, dove ancora si patiscono gli effetti. Cosa succede? Aumentano le temperature, l'atmosfera trattiene più vapore acqueo, che viene poi scaricata in pioggia violentemente. Al tempo stesso la gestione delle risorse idriche lascia a desiderare. Per fare un esempio, nella provincia di Taranto, lungo il tragitto, si risperde il 52% del volume totale delle acque. Il punto è che fatichiamo ad accettare che si tratta sempre della stessa questione, il cambiamento climatico. La crisi climatica e anche crisi idriche, come questo, sono la causa di tantissimi conflitti nel mondo. Ma al tempo stesso anche di come, tutelando l'acqua, si tutela anche la pace e il benessere delle comunità. Parliamo di un fenomeno globale, un'emergenza idrica che va dalla Catalogna, città del Messico, dallo Zambia al Marocco, dal vicino oriente all'India. Il mondo sta finendo le sue riserve e la sua scarsità costringe a migrare. Anche per questa ragione le Nazioni Unite in questa giornata hanno cercato di sottolineare l'importanza dell'acqua come ponte per la pace, piuttosto che fonte di conflitto. Cosa fare? Le indicazioni sono quelle di rallentare quanto più possibile l'innalzamento delle temperature e contemporaneamente migliorare la gestione delle risorse idriche e favorire accordi di cooperazione per l'acqua condivisa. Risorse finanziarie e tecnologie innovative utili per fare dell'acqua una fonte di vita e di progresso per tutti vengono dirottate sulla produzione di armi, a ricordarlo il Papa Francesco, sottolineando che è più che mai urgente ora investire sul dialogo e sulla pace. Quello della preoccupazione per la corsa agli armamenti è un tema costante nel Magistero di Papa Francesco che rappresenta un monito verso le priorità delle scelte politiche adottate a livello planetario. L'invito ad invertire la rotta per creare con le somme destinate all'industria bellica un fondo contro fame e povertà è risuonato anche nel discorso del Pontefice letto dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano Parolin nel 2 dicembre 2023 alla COP28 di Dubai. Due mesi prima, nel messaggio alla FAO per la giornata mondiale dell'alimentazione, Francesco si concentra sull'acqua chiedendo di pianificare una gestione sostenibile per garantire a tutti l'accesso alle risorse idriche. Con il corpo diplomatico, nella tradizionale udienza che apre il 2024, il Papa individua tra le cause dei conflitti lo sfruttamento delle risorse naturali. che arricchisce pochi lasciando nella miseria e nella povertà intere popolazioni che sarebbero i beneficiari naturali di tale risorse.